Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Taranto, nella centralissima via Principe a Medeo, nei pressi del parcheggio ex mercato coperto. Non ci sono stati feriti, ma lo spavento tra la gente è stato tanto. E intanto, proprio oggi Chiara Colossimo, presidente della commissione parlamentare antimafia, era a Taranto per un vertice in prefettura, avviata un'indagine conoscitiva per acquisire maggiori elementi sul fenomeno della criminalità organizzata in città. Il team della Gran Bretagna si è imposto nella tappa tarantina del SELGP, il campionato mondiale dei Catamarani F50, i vincitori e entusiasti dell'accoglienza ricevuta dalla città. Lunadì 25 settembre, ben ritrovati, benvenuti a questa edizione, il nostro telegiornale dedicato al territorio di Taranto e provincia. Iniziamo con la cronaca questa mattina, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in pieno centro a Taranto. Ancora mistero sul molve movente e sulla dinamica dei fatti. Tutto questo mentre tra l'altro era presente oggi in città il presidente della commissione antimafia, il nostro primo servizio del direttore, Gianni Sebastio. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Taranto, nella centralissima via Principe Amedeo, nei pressi del parcheggio dell'ex mercato coperto. Non ci sono stati feriti, ma lo spavento tra la gente è stato tanto nel cuore della mattinata. La zona è molto frequentata. Gli inquirenti hanno curato che i colpi sono stati esplosi con una pistola salve. Si indaga per individuare l'autore del gesto, che pare sia stato già rintracciato. L'episodio è avvenuto proprio mentre in prefettura il presidente della commissione parlamentare antimafia Colosimo incontrava i vertici delle forze dell'ordine. Sul posto sono piombate due pattuglie della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini. I poliziotti hanno trovato sull'asfalto Trebossoli, ma qualcuno dei presenti ha riferito di aver ascoltato almeno una decina di spari. Nei giorni scorsi, nello stesso luogo, si sarebbe verificato un episodio analogo. Sul posto anche i falchi e la polizia scientifica della questura di Taranto. Il presunto autore dunque avrebbe agito così per un gesto che non ha al momento spiegazioni. E come diceva il direttore, questa mattina a Taranto il presidente della commissione antimafia per fare il punto sugli sviluppi della criminalità organizzata nel territorio. Sentiamo. Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare antimafia a Taranto, non rilascia dichiarazioni. Ha tenuto un vertice in prefettura con il prefetto Martino. Il numero uno dell'antimafia giunge per un'indagine conoscitiva e acquisire maggiori elementi sul fenomeno della criminalità organizzata nel capologo ionico. I principali temi affrontati, quelli legati all'usura e alle estorsioni con uno sguardo attento al crescente fenomeno dei reati ambientali. Nessun allarme ha affermato l'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia, componente della quarta commissione difesa alla Camera dei Deputati e membro anche egli della commissione parlamentare antimafia. Nessun allarmismo ovviamente una visita che ho chiesto io al presidente Colosimo quanto almeno venire a vedere e a confermare l'attenzione che la commissione antimafia di cui ne faccio parte ha verso la Puglia, verso il nostro territorio e ovviamente non poteva non avere nei confronti di Taranto. È solamente un fare un punto sulla situazione perché se è vero che non c'è nulla di allarmante è pur vero che noi dobbiamo essere sempre pronti per qualsiasi tipo di evenienza. Quindi semplice lavoro istituzionale. Al vertice in prefettura, oltre al prefetto Martino, c'erano anche il procuratore Pontasuglia, il questore Gambino, il comandante provinciale dei Carabinieri Giardelli e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Tibollo. Cambiamo argomento, una contaminazione di eccellenze e tradizioni pugliesi, riflettori puntati sulla mondo femminile, sabato 30 settembre, appuntamento a Grottaglie con Passerella Mediterranea, donne, non, pupe, Valentina, Fanigliulo. Alta Sartoria Sposa, arte e cultura, imprenditorialità femminile, territorio e artigianato artistico. Non solo parole ma beni da preservare e amare e diffondere che hanno trovato lo scrigno perfetto in Passerella Mediterranea, giunta all'ottava edizione dal titolo Donne, non, pupe. Nasce con l'intento di promuovere l'arte e l'artigianato del nostro territorio e ha uno spaccato, conserva uno spaccato dedicato al sociale e quello della violenza sulle donne. Sabato 30 settembre nel chiostro della chiesa del Carmine a Grottaglie, l'evento unico nel suo genere nel sud Italia unirà cultura e territorio, creatività e stile italiano. Rappresenta uno dei fuori all'occhiello in tema di wedding, di promozione del nostro prodotto identitario che è la ceramica, unito agli abiti da sposo. Non una semplice sfilata dunque, ma una vera e propria rappresentazione, nata dalla sinergia anche tra pubblico e privato. La prospettiva e le partnership pubblico e privato sono davvero il futuro, l'arma che permetterà di gestire, di governare i territori e di fare una programmazione efficace. Attraverso la sensibilità creativa della stilista Carmela Comes e le pupe ad altezza naturale ci sarà una contaminazione di eccellenze e tradizioni pugliesi. Sto mettendo insieme queste eccellenze del territorio, che sono l'alta moda, la moda sartoriale, le ceramiche, il messaggio sociale, crea un effetto a tutto tondo. Un riflettore puntato sul mondo femminile, in passarella alla collezione 2024 Rania, ispirata alla regina di Giordania, testimone di bellezza mediterranea ed impegnata nella lotta a favore dei diritti umani e contro la violenza sulle donne. Va bene l'imprenditoria che è fondamentale, ma serve a far presente, far luce su quello che è un momento bruttissimo del contesto sociale, la violenza sulle donne. In questi giorni i mari di Taranto in particolare sono stati protagonisti del SailGP, un evento internazionale che ha portato una grossissima visibilità alla città e all'intero territorio. Leo Spalluto. Ancora Gran Bretagna, anche a Taranto il Rockwool SailGP è terminato con il successo degli inglesi guidati da Ben Hensley, che avevano trionfato a Saint-Tropez due settimane fa. Stavolta la vittoria è stata segnata dai colpi di scena e il podio finale è stato determinato dalla classifica generale alla termine della quinta prova. Non è stato infatti possibile portare a termine la finale per la quale si erano qualificati Gran Bretagna, Australia e Stati Uniti a causa dell'avvento calato bruscamente. Sono loro i primi tre classificati. Dopo una prima giornata estremamente ventosa, le gare conclusive hanno incontrato condizioni di vento totalmente differenti. Dai 20 nodi di vento che hanno permesso alle barche di volare sul mare a velocità superiore ai 70 km orari, si è passati ad aria leggere di 7-9 nodi. La quarta e la quinta prova sono state disputate così su un percorso di lunghezza ridotte con equipaggi composti da sole quattro persone per rendere le barche più leggere. Dopo il risultato di Taranto nella campionato mondiale dei catamarani F50, gli australiani conservano la leadership con gli inglesi che salgono al secondo posto e gli spagnoli alla terzo. Alla fine premiazione alla Castello Aragonese e champagne è stappato per tutti. La giusta chiusura arriva con le parole di Hensley, timoniere di Emirates Great Britain, entusiasta dell'accoglienza ricevuta a Taranto. L'equipaggio ha fatto un ottimo lavoro per tutto il fine settimana e sicuramente siamo stati fortunati nella regata finale, non vediamo l'ora di tornare qui nella prossima stagione. Taranto è una città bellissima, con tanta storia, è stato veramente bello regatare davanti a una platea così numerosa. Lo skipper è stato premiato dal sindaco di Taranto Melucci, questo è il suo bilancio finale. L'obiettivo è raggiunto, abbiamo visto tanti tarantini e tanti visitatori felici per le strade della città, i locali pieni, insomma penso che si è fatto un bel lavoro. Il magnifico rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, ha presentato il corso di studi in scienze delle produzioni e delle risorse del mare. Laura Milano. Presentato a Taranto il corso di laurea in scienze delle produzioni e delle risorse del mare, un percorso di studi che ha la finalità di formare professionisti in grado di operare sul territorio e sulle sue risorse. Questo corso di laurea interseca due esigenze, devo dire generali del paese ma anche specifici di Taranto. L'esigenza è sicuramente quella di porre al centro il mare come elemento produttivo su cui il paese nelle politiche dell'ambiente dovrebbe prestare molta più attenzione essendo la costa così difesa. Noi come Università l'abbiamo voluto fare a Taranto per la tradizione e per l'esigenza di portare la ricerca ancora più qui. È un proseguo di un corso di laurea che già anni addietro avevamo qui in città, sempre diciamo in senso lato in maricoltura, dove noi abbiamo migliorato quelle che sono le qualità diciamo prettamente formative. Taranto città di mare, un corso di laurea che guarda le sue risorse a quella blue economy che ci si augura possa essere volano di sviluppo e opportunità per i giovani di restare nella propria terra. Pensiamo che questo corso possa attrarre gli studenti che non solo hanno la passione per il mare di tutto ciò che ne può derivare ma che potranno avere anche sbocchi occupazionali futuri al fine di poter consentire agli stessi di formarsi ma di rimanere a lavorare e a vivere nella terra di origine legata alle loro radici e alla terra che amano. Ennesima truffa telefonica ai danni di un'anziana, un finto avvocato stava per estorcere 3.000 euro ad una donna di Avetrana, la vicina di casa però che si trovò fortunatamente accanto alla vittima durante la telefonata l'ha letteralmente salvata. Marzia Baldari. Servono immediatamente 3.000 euro altrimenti suo figlio andrà in galera perché ha provocato un grave incidente con questa frase sconvolgente che un truffatore fingendosi avvocato ha tentato di ingannare telefonicamente un'anziana di Avetrana, la donna ci stava cascando per davvero ed era pronta a malincuore a consegnare la salata parcella al fantomatico avvocato ma fortunatamente il caso, o chi lo sa il destino, ha voluto che proprio durante l'angosciante telefonata ci fosse una vicina di casa che ha capito immediatamente il giro strappando il telefono dalle mani dell'anziana facendo subito saltare i piani dell'impostore. E' purtroppo l'ennesimo caso di truffa che ha sempre il solito copione nei comuni della provincia Tarantina, un uomo che si presenta come legale al telefono che comunica un incidente gravissimo nel quale è coinvolto un familiare arrestato dai carabinieri che per liberarlo è indispensabile pagare una cauzione. Se questo caso è chiuso grazie alle diverse inchieste dei carabinieri di Manduria che hanno individuato il truffatore originario della provincia di Napoli, per la vetranese rimarrà solo un brutto ricordo. Adesso ci spostiamo a Martina Franca, ritardi sulla consegna del cantiere di Corso Messapia nella città. E' così l'opposizione in calza e convoca un sopralluogo tecnico sulla questione. I commercianti chiedono di poter riavere la loro squadra, la loro strada, la nuova scadenza per la riapertura adesso è fissata al prossimo 30 settembre. Ottavio Cristofaro. Un sopralluogo sul cantiere di Corso Messapia, Martina Franca ha chiesto dal gruppo di opposizione di Fratelli d'Italia per incontrare l'assessore lavori pubblici Nunzia Convertini. Stiamo avendo ormai da parecchio tempo varie sollecitazioni da parte dei commercianti, dei residenti, quindi era necessario comunque interpellare direttamente l'amministrazione, cercare di dare delle risposte a delle domande che vengono ripetutamente fatte dai cittadini ma che non hanno ricevuto nessun riscontro fino a questo momento. Ma innanzitutto abbiamo chiesto quando è prevista la reale apertura di Corso Messapia. Hanno dato un'ennesima scadenza che è il 30 settembre, scadenza sulla quale onestamente non metto la mano sul fuoco. Sappiamo benissimo che il ritardo di questo mese rispetto alla scadenza determina delle problematiche, quindi su questo siamo d'accordo e anzi chiediamo scusa alla città anche se stiamo cercando di sollecitare sempre ogni giorno perché i lavori terminino effettivamente nei tempi che erano stati previsti. La tempistica concessa dal direttore dei lavori per l'ultima azione il 30 settembre. La questione che rimane alla decisione politica è certamente quella della viabilità. Qui nessuno chiede che le macchine arrivino innanzi ai negozi, qui chiediamo quantomeno che arrivino, in qualche modo che si renda percorribile la strada affinché ci sia la viabilità. Non ci sono i parcheggi perché il primo parcheggio è a Piazza D'Angio, ma segnaliamolo Piazza D'Angio. Abbiamo delle perplessità sulla qualità del materiale che si annerisce, la pulizia delle fughe che è sotto gli occhi di tutti, gli avvallamenti che ci sono qui dove hanno fatto questo asfalto stampato, i tombini che quando piove ristagna l'acqua, gli alberi che sono stati piantati che purtroppo, ahimè, sono tutti seccati. Una ditta ritarda un mese e ritarda un mese, noi ritardiamo un mese e saltiamo una stagione. Due parole, no traffic, no business. Conoscere le necessità del tessuto imprenditoriale esistente, quello in erba, per poter definire nel Consiglio le linee programmatiche, da qui la necessità e la volontà di incontrare i comuni che ne fanno parte, è il tema di un'iniziativa che si è tenuta a Carosino. Sostenere e accompagnare i giovani che scelgono di rimanere nella propria terra, il lavoro propedeutico utile ad accompagnarli al meglio attraverso le misure a loro disposizione prosegue con le linee messe appunto in una serie di incontri all'interno del percorso GAR Rural Days, tre vertici del gruppo di azione locale Magna Grecia e i primi cittadini dei comuni che ne fanno parte. Condividiamo insieme al Presidente, ma a tutto lo staff del GAR, quella che può essere una strada per lo sviluppo, così come diceva lei, affinché i nostri giovani possano trovare uno sbocco anche dalle nostre parti. Ovviamente non è semplice, però confrontandosi in maniera chiara e trasparente si possono anche trovare delle soluzioni importanti affinché tutto questo possa essere realizzabile. Un nuovo piano di programmazione è quello del 2023-2027. L'importante è comprendere attraverso l'ascolto di incontri che sono aperti a tutti, non esclusivamente per gli addetti ai lavori, quali sono le idee, mettere nero su bianco progetti che talvolta nascono da un sogno e attraverso il GAL trovare la misura e gli strumenti più adatti per muovere i primi passi, per poter cominciare a crederci. Portiamo avanti già importanti progetti come con il GAL Magna Grecia e prima ancora con il Colline Ioniche e abbiamo iniziato a mettere giù quelle che sono le linee programmatiche che saranno contenute all'interno del prossimo piano di sviluppo locale. Un piano che ovviamente avrà delle risorse dedicate anche a tutti i comuni del nostro territorio e quindi con il Comune di Carosino abbiamo tracciato un po' quelle che saranno le linee di investimento sia per quanto riguarda gli enti pubblici sia per quanto riguarda le aziende. È stato identificato, fermato e rinchiuso in carcere per omicidio stradale e omissione di soccorso un brindisino di 32 anni che domenica sera travolto è ucciso un pensionato sulle strisce pedonali, fuggendo senza prestare soccorso. Gli ultimi istanti di vita di Cosima D'Amato, trovata carbonizzata nella villetta del figlio a San Michele Salentino, sono stati ripresi dalle telecamere di una farmacia posta davanti alla sua abitazione. Proseguono le indagini. Arriva l'autunno e si parte con le vaccinazioni, l'asla di Brindisi si riorganizza per rendere sempre più performanti quelle pediatriche. Eccoci nuovamente in diretta, in apertura, la cronaca tragedia nella serata di ieri a Brindisi in Viale Aldomoro, un uomo è stato travolto e ucciso da una pirata della strada. L'uomo è praticamente morto sul colpo, si tratta di un brindisino di 82 anni. Immediatamente sono partite le ricerche da parte delle forze dell'ordine che poi, notata, hanno arrestato il presunto autore dell'investimento e adesso si trova in carcere. Gianmarco Di Napoli. Si era liberato dell'auto abbandonandola gravemente danneggiata nelle campagne alla periferia della città e non era più tornato a casa. È durata comunque poche ore la fuga del pirata della strada che domenica sera ha investito e ucciso un pensionato sulle strisce pedonali di Viale Palmiro Togliatti davanti al Palazzo di Giustizia di Brindisi. Sentitosi ormai braccato dagli agenti della sezione volanti che hanno bussato al suo appartamento si è presentato poco dopo presso il comando della polizia locale. Si tratta di Andrea Porcelluzzi, 32 anni, brindisino con piccoli precedenti penali ma ben noto alle forze dell'ordine. Per lui è scattato il fermo disposto dal PM Giuseppe De Nozza con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso e stato rinchiuso nella casa circondariale di Brindisi. Teodoro Taurisano, 82 anni, è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali alle 19.35 di domenica. La svolta alle indagini è arrivata poco dopo grazie alla visione di alcune telecamere che sorvegliano la zona, tra cui quelle piazzate sul Palazzo di Giustizia. Dalle registrazioni si nota una lancia Y di colore chiaro che investe il pensionato scaraventandolo a circa 20 metri dal luogo dell'impatto. Il conducente si ferma, scende per pochi secondi e una volta resosi conto della tragedia che ha provocato, si rimette al volante e fugge. Quando si è presentato presso il comando della polizia locale, all'inizio Porcelluzzi ha cercato di negare ma poi, davanti all'evidenza delle immagini, ha dovuto ammettere. La sua lancia Y, abbandonata nelle campagne, aveva il lunotto anteriore lato guida, completamente distrutto a dimostrazione della violenza dell'impatto. Per lui si sono spalancate così le porte del carcere di Via Appia, accompagnato da agenti della Polizia Locale e della Questura. Il corpo di Teodoro Taurisano, pensionato originario di Patù in provincia di Lecce, ma residente a Brindisi, è stato ricostegnato alla famiglia per i funerali. Purtroppo non è la prima volta che quella strada diventa teatro di investimenti e di incidenti del genere. Altre persone, tra l'altro su quell'arteria stradale, importantissima per Brindisi in passato hanno perso la vita. Purtroppo più di qualcuno continua a scambiare quel rettelino per una pista di Formula 1. Ancora cronaca, adesso ci spostiamo però a San Michele Salentino. Gli ultimi istanti di vita di Cosima D'Amato, trovata carbonizzata qualche giorno fa nella villetta di proprietà del figlio che attualmente risulta indagato a San Michele Salentino, sono stati ripresi dalle telecamere di una farmacia posta davanti alla sua abitazione. Gli ultimi momenti di vita di Cosima D'Amato, 71 anni, vengono catturati dalla telecamera piazzata all'esterno della farmacia che si trova proprio di fronte alla sua abitazione in via Cavur, a due passi dal municipio di San Michele Salentino. Nella tarda mattinata di lunedì 19 settembre esce da casa e si allontana a bordo della sua Fiat Panda. Poco dopo la si vede rientrare a piedi. Infine alle 14.35 esce e con ogni probabilità sale sulla sua stessa auto, questa volta condotta dal figlio Alberto Villani. Non vi farà più ritorno. Nel cuore della notte il suo cadavere bruciato verrà trovato nella villetta del figlio incontrata a Ugelluzzi. Ma la telecamera ha ripreso qualcos'altro di molto interessante. Alle 22.30 di quello stesso martedì Villani viene inquadrato mentre torna a casa della madre solo a bordo della Fiat Panda, con andatura barcollante per l'alcol assunto, senza bussare perché sa che dentro non c'è nessuno, cerca di entrare ma non ha le chiavi e poco dopo si allontana. Con ogni probabilità ha già ucciso la madre ma deve ancora piccare l'incendio. Forse vuole crearsi un alibi. Sono ancora diversi i misteri da chiarire nel terribile omicidio avvenuto nelle campagne alla periferia del paese e in parte elementi importanti potranno arrivare dall'autopsia che viene effettuata presso il cimitero di Ostuni. Sarà fondamentale per capire se l'anziana donna fosse già morta quando il figlio ha dato fuoco alla stanza da letto carbonizzandone il corpo o se invece era ancora viva. Villani, quando è stato bloccato dai carabinieri, era evidentemente ubriaco e privo di qualsiasi emozione per ciò che aveva appena commesso. Cambiamo argomento, lasciamo la cronaca almeno per il momento. È tornato a riunirsi questa mattina il Consiglio Comunale di Brindisi. Davide Cucinelli. Arriva in Consiglio Comunale a Brindisi il documento unico di programmazione 2023-2025. Un tema importante, fortemente legato con il bilancio di previsione che andrà in Consiglio Comunale il prossimo 5 di ottobre. Due temi importanti ma paralleli. Il primo, quello del documento unico che guarda una visione di intero mandato, come spiegato dall'assessore al bilancio Livio Antonucci, ed il secondo invece del bilancio preventivo che deve fare conti con una ristrettezza dei tempi e anche economica. Tra i temi toccati è l'interlocuzione con il MEF per la rimodulazione del piano di rientro del predissesto, il potenziamento del corridoio 8 e la eliminazione della tassa d'imbarco e anche l'alienazione di alcuni beni con un dialogo aperto con l'Invibit che potrebbe acquistare, come annunciato dallo stesso assessore, a breve un immobile candidato dall'amministrazione Brindisina. Questa amministrazione sarà impegnata a dare risposte a quelle che sono le richieste dei cittadini ma soprattutto a creare un collegamento diretto tra ente comunale e cittadini. E' chiaro che noi ci siamo insediati da due mesi e pertanto abbiamo trovato delle situazioni che si erano già consumate e non abbiamo potuto far altro che prenderne atto, però nel secondo semestre andremo a fare le nostre proposte e ne approfondite poi nella fase del bilancio di previsione che ci hanno portato a fare delle scelte politiche molto forti. In primis quella del rivedere l'accordo con il MEF, quindi abbiamo aperto un'interlocuzione per eliminare la tassa d'imbarco. Maggioranze e opposizione convergono sulla necessità di dotare di strumenti countdown, dispositivo che indica il tempo di accensione della fase semaforica, i semafori cittadini a Brindisi e il passaggio livello di via Osanna. E' passato quasi all'unanimità, questa mattina 31 sì e un solo no, un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Alessandro Antonino di impegno per Brindisi nel corso della seduta della Sise. Il tema tra l'altro assume un particolare rilievo evidentemente in questa giornata, visto che stiamo a poche ore praticamente da quel drammatico incidente stradale al quale abbiamo parlato in apertura del nostro telegiornale, costato la vita ad un 82enne, quindi i semafori Brindisini avranno questo conto alla rovescia che andrà a disciplinare, almeno ci si augura così meglio il traffico. Adesso cambiamo argomento, però ci occupiamo ancora di politica spostandoci a Francavilla Fontana, si è abbattuto un vero e proprio terremoto politico sulla città degli imperiali dopo un duro attacco del Partito Democratico. Ai nostri microfoni ha analizzato la situazione. Mimmo Bungaro, sentiamo Gianni Canalire. La mancata assegnazione al Partito Democratico delle due poltrone, quella dell'ambito del Gallo, ha provocato un vero e proprio terremoto politico a Francavilla Fontana. Il Partito Democratico ha attaccato a muso duro il sindaco Antonello Denuzzo, evidenziando una mancanza totale di un metodo di confronto. Il capogruppo del PD, la Tartara, ha rinunciato all'incarico. Bungaro invece ha accettato, ma ciò ha provocato un terremoto politico. Io non entro in merito al terremoto politico, sicuramente se ci saranno le condizioni, ma sicuramente ci saranno quelle della risposta al PD da parte del sindaco, sicuramente il sindaco risponderà. Quindi secondo me posso dire soltanto che erano inutili queste polemiche, perché le polemiche potevano essere tranquillamente risolte parlando e discutendo. Bungaro si dichiara pronto a rappresentare nel migliore dei modi la delega al Consorzio dell'Ambito Territoriale. Ho accettato la delega dell'Ambito Sociale, a parte perché l'Ambito Sociale, o meglio il Consorzio dell'Ambito Sociale, è una mia creatura che ho lasciato nel 2013, una creatura che abbiamo creato io come Presidente, quella del Consorzio naturalmente, l'ex sindaco di Bitonto, Michela Baticchio e quindi vorremmo veramente fare molto nel sociale e magari in futuro per la nostra città e per tutto il territorio. Alleanza al rischio si vedrà nei prossimi giorni. A Brindisi è stata presentata la prima scuola di formazione politica rivolta alle donne. prime minister è un progetto importante di formazione, rivolto alle donne e rivolto ovviamente alla formazione, perché le donne vogliono primeggiare, ma primeggiare nella qualità. È una scuola di politica e cittadinanza attiva per ragazze, dai 14 ai 19 anni, sarà un percorso gratuito, un percorso dedicato all'ispirazione e soprattutto a far percepire alle ragazze che loro possono essere il cambiamento. è un progetto nazionale, prime ministeri esiste già in diverse città d'Italia, nasce al sud e la portiamo a Brindisi con un gruppo di tante donne impegnate nell'attivismo, nella politica, nella cultura, nel migliorare questo territorio. È una scuola che porterà alle ragazze tanti esempi di donne e persone che si sono impegnate nella lotta alla criminalità, nel contrasto a un sud che non cambia. Secondo me questa iniziativa, insieme ad altre che si stanno nel frattempo sviluppando per esempio all'interno delle case di quartiere, che sono avere posti e avamposti democratici disseminati, sono ben 10, nella città va nel senso di sviluppare questo riavvicinamento dei cittadini in generale, ma dei giovani e delle donne in particolare a un nuovo impegno nella politica per avere a disposizione una sorta di capitale umano da impiegare nei prossimi anni nelle amministrazioni per sviluppare processi di sviluppo, di innovazione civile di cui sentiamo necessariamente grande bisogno e grande necessità. La città di Oria sta ospitando in questi giorni i seminaristi del Pontificio regionale di Molfetta, è dunque ufficialmente iniziata la missione Giovani. Alessandro Zanzico. La diocesi di Oria si appresta a vivere il meglio per te, la missione Giovani dei seminaristi del Pontificio regionale più undicesimo di Molfetta, in programma dal 23 settembre al 1 ottobre 2023. Per nove giorni la comunità diocesana di Oria sarà cuore pulsante della vita ecclesiale giovanile dell'intera Puglia. La missione si rivolgerà ai giovani sia a livello diocesano che nelle singole comunità parrocchiali e nei rispettivi comuni, in un mutuo scambio tra i giovani del territorio e i seminaristi della propria quotidianità. Nel pomeriggio di sabato 23 settembre è stata accolta presso il santuario di San Cosimo alla Macchia la diocesi del seminario regionale di Molfetta, successivamente vi è stato il conferimento del mandato missionario. Dieci giorni importantissimi per la nostra diocesi di Oria, soprattutto per i giovani della diocesi di Oria, perché comincia questa sera la missione Giovani. In questi dieci giorni i seminaristi si muoveranno per tutta la diocesi incontrando i giovani nelle famiglie, nelle parrocche, nelle scuole, nei posti di lavoro, in piazza, in qualsiasi posto. Per dire semplicemente una cosa, che c'è un qualcosa di bello per loro, per ogni giovane, che c'è un meglio per loro, e questo meglio ha un nome, si chiama Gesù. In ogni comune della diocesi i seminaristi incontreranno i giovani e le famiglie nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni e in altre occasioni di fraternità. Sì, è un'occasione straordinaria perché i giovani seminaristi del seminario sapranno parlare da giovani a giovani della loro esperienza di fede e di come hanno imparato a stare nella vita rispondendo agli appelli che Dio rivolge a ciascuno e impegnandosi nel trovare il proprio posto nella vita. È iniziato il conto alla rovescia in vista delle prossime amministrative a Lecce, centro-destra ancora senza candidato, c'è intanto chi si candida a prescindere. Transizione digitale in Italia, tutelare la filiera, è il tema di un workshop che si è tenuto a Lecce alla presenza del ministro agli affari europei, Raffaele Fitto. Nelle scorse ore la tromba d'area che ha colpito la zona meridionale di Lecce ha procurato nuovamente la caduta di grossi alberi di Pino che fortunatamente non hanno causato feriti ma certamente diversi danni e disagi. Nuovamente in diretta edizione dedicata al territorio leccese, conto alla rovescia in vista delle prossime amministrative, i partiti provano a riorganizzarsi, non abbiamo ancora i nomi dei candidati alla carica di sindaco ma c'è chi ha deciso comunque di scendere in campo. Maria Teresa Carrozzo. Si respira aria di elezioni a Lecce, il centro-sinistra lavora sulle primarie mentre il centro-destra si confronta sul papabile candidato sindaco. I nomi che rimbalzano sono sempre quelli Ugo Lisi, Giuseppe Tamburrino e Paolo Pagliaro ma le trattative sembrerebbero ancora in alto mare o meglio approdate su un tavolo nazionale. Ma intanto c'è chi, a prescindere dal candidato sindaco, ha deciso di correre sicuramente a destra, sicuramente in una lista civica. È alle nostre spalle uno slogan risollevare Lecce, cosa intende? Negli ultimi anni Lecce riversa in una situazione di incuria, disordine e dimenticanza da parte di un'amministrazione troppo, troppo poco attenta. Purtroppo sono state spese nelle campagne elettorali precedenti troppe promesse e ci sono stati stati veramente pochi pochi fatti e per questo ci siamo riuniti come contenitore di un gruppo di persone e mediante un laboratorio delle idee proporremo delle idee proprio per risollevare le città e proporle alla futura amministrazione comunale. Quindi una vera e propria ripartenza? Sì, assolutamente sì, noi vogliamo ripartire dal zero perché non parliamo soltanto, non siamo quelli che parliamo dell'amministrazione precedente, giusto perché abbiamo colori politici, ma lo facciamo nella serenità che parecchie amministrazioni precedenti hanno fatto sì che tutto questo scempio di questa città, di questa città in buto, questa città che è green ma non è green, portasse a una mancanza, una mancanza proprio da parte dei cittadini leccesi, la classe sociale leccesa. Adesso ci occupiamo dell'emergenza xylella che riguarda tutta la regione, problema che si sente però anche nel Salento, la Camera di Commercio ha chiamato al rapporto, le istituzioni locali e non solo. L'assenza di una regia per la ricostruzione del paesaggio, la mancanza di fondi adeguati di un apparato burocratico snello che affianchi gli agricoltori anziché ostacolarli e poi l'avanzata del batterio verso Brindisi e Bari. Le Camere di Commercio di Lecce, Brindisi e Taranto scendono in campo per farsi promotrici di un momento di confronto fra tutte le istituzioni, le imprese e le associazioni di ogni comparto dell'economia. Qualcuno deve fare il mia colpa perché quelle norme sono frutto della concertazione del passato e non voglio fare lo scaricabarile perché non è mio costume. Sulla nuova programmazione stiamo semplificando al massimo. Abbiamo due problemi oggi che dobbiamo discutere, sono quelle delle piante resistenti che sono poche e è difficile trovarle e l'altra è quella dei piccoli proprietari che hanno questa difficoltà a rimettere su economia, paesaggio e piante. Presidente, lei crede che la politica si muova sempre in modo tardivo rispetto a quelle che sono le esigenze reali della nostra regione? No, non la metterei in questo piano. Io dico che ci sono dieci anni nei quali si è dormito per usare un eufemismo rispetto a delle problematiche che avevano bisogno di interventi. Lei è qui perché la politica non porta delle soluzioni ma è necessario pregare? La politica può fare tutto, non può fare i miracoli. La natura ha il suo corso, gli uomini hanno la propria responsabilità. Per quanto riguarda l'Axilella dove dobbiamo dirigerci? dirigerci? Come possiamo interpretare? Ci sono tante letture, ci sono tante interpretazioni. L'unica parola oggi è determinazione e speranza. Non ho altro da aggiungere, parlavo solo come vecchio contadino. Cambiamo argomento, anzi in qualche modo continuiamo a parlare di alberi, ma di quelli che insistono nelle nostre città perché molti sono caduti nelle scorse ore a Lecce a causa del maltempo, a causa di una tromba d'aria, ancora una volta si sono verificati dei danni, fortunatamente non ci sono stati feriti. Facciamo il punto con Pier Andrea Fanigliulo. A Lecce sembra non avere fine la caduta degli alberi tra strade, macchine e recensioni. Fortunatamente anche in queste occasioni non ci sono stati feriti, ma la tromba d'aria che nelle scorse ore ha colpito il capoluogo salentino ha nuovamente provocato danni e disagi alla comunità. Gli episodi in questo caso hanno interessato via l'Equile e via le Grassi, proprio lì dove è passata la tromba d'aria. Tutti possono cadere perché stanno tutti quanti alle stesse condizioni. Non vengono mai a pulire, non vengono mai a fare questi alberi benedetti, non fanno mai niente. Le persone sui marciapiedi non possono camminare perché sono deturpate dagli alberi, dalle radici profonde. Fortunatamente non ci sono stati feriti, giusto? Le macchine sono mezze distrutte, il cancello è tutto quanto distrutto, l'albero è caduto tutto quanto si vede, perché non vengono mai a potare gli alberi, quindi da queste parti se ne fregano proprio il Comune di Lecce. Sono da due anni che facciamo la pecca al Comune di Lecce per la potatura e chiaramente gli alberi, se le guarda, le radici sono fuori del marciapiede, di cui il Comune di Lecce non se ne frega un cavolo. I danni quali ci sono stati? I danni ci sono, le macchie, c'è tutta questa infertilità da qua, c'è il pilastro che sta per cadere e non si sa ancora di preciso, comunque i danni ci sono. Fortunatamente non c'erano persone, altrimenti qui sarebbe successo veramente un disastro non indifferente. Cambiamo argomento, transizione digitale in Italia, tutelare la filiera, è il tema di un workshop che si è tenuto a Lecce alla presenza del Ministro Raffaele Fitto. Digitalizzazione, immaginare scelte in linea con la filiera e adeguare il sistema alle scelte che devono essere messe in campo per cogliere al meglio le opportunità. Questo è il fine dell'incontro tenutosi a Lecce presso il Tenato Pollo, alla presenza delle massime cariche politiche e istituzionali e del sottosegretario Butti. Le aziende italiane lamentano una concorrenza verso quelle che sono le aziende estere, come il governo tende a tutelarle? Innanzitutto hanno ragione, nel senso che fino a un anno, un anno e mezzo fa c'era questa abitudine di essere sostanzialmente supini rispetto alla impostazione delle grandi e potenti realtà e delle grandi e potenti dimensioni tecnologiche. Abbiamo cominciato noi a parlare di sovranità digitale. È stato sdoganato il termine. Noi dobbiamo fare in modo che all'interno di questo concetto di sovranità digitale rientrino pienamente le nostre piccole e medie imprese. Lo sforzo del governo dovrebbe essere insomma quello di mettere insieme una visione comune tra il carattere normativo e le esigenze delle aziende. Il piano nazionale di ripresa e resilienza ha sulla digitalizzazione un importo notevolissimo tra i più alti in assoluto, anzi il più alto in assoluto a livello europeo e quindi è giusto che anche sulla base della situazione esistente si faccia questa valutazione. Bisogna tenere conto che chiaramente molte delle questioni di cui ci occupiamo sono state già avviate precedentemente e quindi bisogna trovare un metodo di lavoro che guardi a questo aspetto e soprattutto anche centrando il risultato sul terreno della digitalizzazione. Agenda digitale propone delle opportunità ma anche delle insidie, prevede la trasformazione del paese ma il gap è ancora molto ampio tra il nord e il sud, rimanendo in un contesto nazionale. Occorre riflettere sul comparto e sulle dinamiche che rischiano di lasciare fuori piccole e medie imprese. Un bando per l'assunzione di 47 OSS crea l'agitazione di 150 lavoratori dell'ISPE. Il sindacato Cobas ha scritto al prefetto di Lecce per cercare una soluzione. Sentiamo Paolo Franza. Il nuovo bando per l'assunzione di 47 OSS pubblicato dall'Istituto per i servizi e la persona per l'Europa che gestisce tramite delle cooperative i servizi in diverse RSA della provincia di Lecce preoccupa i 150 lavoratori già impiegati. Il sindacato Cobas aveva già richiesto un incontro a ISPE il 30 agosto senza ottenere risposta dichiarando ora lo stato di agitazione. Il caso è quello dei 47 OSS che per via del bando non troveranno una futura collocazione perché i posti di lavoro non sono infiniti e i posti letto sono quelli e i servizi da rendere rimangono lo stessi. Se questo bando non viene ritirato noi abbiamo chiesto la revoca di tutela all'ISPE, abbiamo fatto anche un appello alla regione chiedendo di modificare o di revocare questo bando e nella peggiore dell'ipotesi di lasciare immutate queste condizioni cioè di continuare ad operare con le cooperative. Parliamo appunto di 150 lavoratori e i 47 non andrebbero ad aggiungersi ai 150 ma andrebbero a sostituire. A sottrarsi sì. Su 5 sedi il personale non può crescere all'infinito. Abbiamo chiesto un incontro al commissario straordinario e anche al direttore generale ma non ci hanno incontrati ecco perché la nostra preoccupazione è proprio questa, non ci avete incontrato ed è uscito questo bando. C'è qualcosa che non va, quindi ecco perché chiediamo chiarimenti e abbiamo chiesto alla prefettura di convocare le parti. Il personale è abbastanza agitato e è pronto a manifestare, a fare cortei e manifestare anche vicino alle sedi e alla prefettura. Prosegue la protesta dei due consiglieri salentini, Liuzzi e Petrone, contro il consorzio di bonifica Ugento, Lifoggi. Giovedì saranno ascoltati in regione. Importanti novità giungono da Bari in merito alla protesta contro le cartelle pazze dei consorzi di bonifica e l'inefficienza di questi enti portata avanti dal consigliere comunale di Taurisano, Gianni Liuzzi, e dal collega di Collepasso, Salvatore Perrone. I due, su richiesta del comitato consorzi di bonifica, saranno ascoltati in audizione della quarta commissione consigliare regionale permanente sul tema criticità dei consorzi di bonifica pugliesi. Il movimento cresce e crescono anche le speranze di vincere una battaglia contro l'ingiustizia e i danni degli agricoltori e delle aziende agricole del Salento, spiega il consigliere del comune di Taurisano, Gianni Liuzzi. Portare all'attenzione il problema delle aziende agricole del Salento, colpita dalla xylella, delle difficoltà che ci sono nei campi e si tratta di portare all'attenzione dalla classe politica e di tutti quanti queste problematiche. Giovedì, come sempre, noi chiederemo intanto l'annullamento degli avvisi di pagamento del consorzio di Gentoli Foggi, perché è come ristoro delle difficoltà che ci sono in agricoltura. C'è le grandinate in questi giorni, c'è le difficoltà generali dell'economia. È chiaro che ognuno si sconforta ad iniziare un'attività che poi non è sostenuta, non è confortata da parte della regione Puglia, in questo caso è dallo Stato. Noi abbiamo chiesto, oltre all'incontro con la quarta commissione agricoltura, abbiamo chiesto l'incontro per chiedere l'annullamento, ma abbiamo chiesto anche al Senato della Repubblica di essere ascoltati e di trattare il problema della xylella, perché deve ricostituirsi il paesaggio nel Salento, perché tra l'altro questo è collegato anche con il turismo, perché quindi l'agricoltura è depresso anche il turismo. È tutto per quanto riguarda queste edizioni provinciali dei nostri telegiornali, parte tecnica curata da Fabio Pignatelli e Michele Marchitelli in regia. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i programmi di Antena Sud. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antena Sud, più veloce e con più funzioni, per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.